Salvini aveva incontrato di recente Moratti, si era parlato di un possibile... Io non l'ho incontrata di recente, non so, non me ne occupo, credo che Regione Lombardia sia il motore di sviluppo del Paese, il centro-destra su Regione Lombardia ha sempre avuto un'importanza assolutamente rilevante e credo anche che abbia attraversato negli ultimi anni, soprattutto con le vicende Covid, un momento difficilissimo dove purtroppo c'è stato il governo Conte II che l'ha lasciata sola. Quindi io ringrazio Teglio Fontana per quello che ha dimostrato, perché vorrei dire che è stato un governatore che è stato massacrato anche da un Presidente del Consiglio che non l'ha aiutato e dopodiché si è dimostrato invece che ha avuto la forza e il coraggio di andare avanti. Poi se ci sono questioni di giunta sinceramente non venite a chiedere a me.